Ciao a tutti Stellar, qui X5Stellar che parla, e oggi siamo qui con un nuovo video aggiornamento. Allora, voi vedete questo canale qui e vi direte che cazzo è? Beh, sono io, come potete vedere qui da questo Stellar, che volevo chiamarmi semplicemente Iselxys. Il problema è che quando sono andato a modificare il nome su... come cavolo si chiama? Su Google+, mi hanno detto che devo per forza avere due nomi perché devi essere una persona reale e quindi se vuoi fare video su YouTube non puoi avere un nome d'arte ma devi avere il tuo nome e cognome, abbia. Affanculo Google+, ogni giorno che passa ti odio sempre di più. Anche perché ieri avevo cambiato l'avatar, avevo cambiato l'avatar, questo qui avevo messo questo, che mi ha fatto gentilmente dopo che è da Altaxide 98, ha cambiato il nome, è vero anche lui. Come potete vedere da qua sotto mi ha fatto anche il BG, BG. L'avevo cambiato, appunto sapendo che YouTube ci mette un po' per cambiare le cose, sono andato a fare la doccia e poi dopo sono tornato e non me l'avevo ancora cambiata. Ho detto, ok, allora dato che sera lo farò domani. Mi sveglio, mi lavo i denti, faccio tutto quel che devo fare, non ho fatto colazione però perché non faccio mai colazione. Vengo qui, accendo, into 6x e non c'è l'avatar. Ma porco. Cioè, non c'è l'avatar. Io l'ho cambiato ieri e non c'è. L'ho messo adesso e me, fortunatamente, me l'ha cambiato subito. Ah, Google+, quanto ti odio, quanto ti odio. Cioè, per alcune cose fai delle cose buone, ma per altre ti odio. E comunque questo video non è su Google+, che è stato aggiunto mesi fa, ma proprio mi sa anche anni. Ormai sarà passato un anno, credo. Comunque siamo qui per parlare di questo canale. Cosa farò su questo canale, che sarà appunto il secondo canale? Come potete facilmente intuire dall'avatar, il BG, potete capire perfettamente che farò S-Word. Infatti, la... come il cavolo si chiama? Il let's play di S-Word lo continuerò qui. Continuerò tra parentesi. Perché tra parentesi? Per il semplice fatto che ricomincerò da capo. La storia non vi preoccupate, ho un metodo. Allora, per i primi episodi dove ho già fatto tutto, per quelle parti dove c'è la storia, metterò il link in descrizione al video originale. Mentre per quando andrò avanti, taglierò la storia e poi dopo, per chi fosse interessato alla storia, metterò il link di un altro video che terrò non elencato, così voi potete leggere, sentire a me che leggo la storia, per chi fosse interessato. Così andiamo anche molto più avanti con i dungeon e così che via. Comunque, ho detto che farò S-Word, ma non farò solo S-Word. Cioè, al momento sì, farò solo S-Word. Ma, tipo, quando mi libero delle serie tipo Pokémon Snakewood e Dragonstone, di cui finalmente ho i Pokémon a livelli giusti, credo, spero, lo spero più avanti, soprattutto con Dragonstone. Sì, dato che mi libero di quelle due serie. Pokémon? S-Pokémon. Fire Emblem ho deciso di stopparla e rifarla molto più avanti quando avrò i mezzi necessari per portarvela decentemente, perché era una merda. Proprio per quanto riguarda Gondelsun, sono stato io uno stupido a non notare che a voi piaceva, perché se andiamo a vedere le visual che facevano i video di Gondelsun e quelle che facevano Fremblem, Gondelsun riceveva molte più visual. Quindi, sì. Più avanti vi riporterò anche Gondelsun. E niente, sul canale principale adesso farò Pokémon, principalmente, ma non solo. E per quanto riguarda quel let's play segreto che vi ho detto che iniziavo dopo Pokémon, dopo Snakewood. Per il momento lo elimino. Cioè, se io tipo vado qui, tanto adesso se vi dico il nome non cambia nulla, perché non vedrete mai questo video. Anzi, è meglio, perché stavo sparando tanta merda su me in terra e questa potrebbe portarmi nei guai. Ecco. Potete vedere che avevo già due... due video, cioè, uno pronto e l'altro dovevo editarlo e basta. quindi questi non li vedrete mai ma li vedrete quando mi verrà... mi ritornerà... cioè, non è che ritornerà, perché la voglio dire di scarroccio, no. Quando vedrò che sarà il momento giusto per portarvi questa serie. Punto. quindi sì, sì, lo faccio proprio davanti a voi, dai. Tanto... scialla, tanto... no. A questo punto cancelliamo direttamente il coso. Boom. E non c'è più niente. Stessa cosa vale per Golden Sun. Mi dispiace. Bambini miei, giuro che un giorno ritorno. Ah, già. Non so perché, ma ci sono ste due cartelle che non riesco a eliminare. Quindi... BBB empty the second game e bye bye. Quindi per chi volesse guardare Hellsworld andatevi a iscrivervi... andate... iscrivetevi a questo canale. E niente. Lascerò il canale in tutte le descrizioni dei video adesso in poi. Quindi non si vedo con un prossimo episodio. Ciao. Prossimo episodio? What? Non si vedo con un prossimo video. Ciao a tutti.